livello l'unico giorno facile era ieri trofeo toc toc uccidere quattro diversi nemici durante un'irruzione con tempo rallentato per farlo dovrete essere molto veloci e sparare un singolo colpo alla testa di quattro nemici e ucciderli di fila ci sono due posti il primo è più semplice entrando da sinistra ma anche questo è molto semplice che il secondo posto dove fare il ruccello il quarto non l'ho colpito in testa perché mentre sparavo mi era arrivato un colpo e quindi la mira è andata è andata però in un paio di tentativi dovreste farcela io gioco a soldato al momento ma appunto al veterano